Il web è il futuro, in particolare nell'informazione è il futuro? Assolutamente no, il web è il presente ed è il presente immanente. Di questo noi discutiamo nei giornali del gruppo Finej, la più sofisticata rete di giornali locali, di questo ragioniamo con i colleghi del Messaggero Veneto. Stiamo lavorando per potenziare sempre più il sito e stiamo lavorando anche per far diventare il sito del Messaggero Veneto il luogo di confronto di tutto ciò che avviene nella rete, una sorta di hub informativo, per cui andando sul sito del Messaggero posso trovare anche informazioni che provengono da altri canali. Credo che questo sia un modo corretto per essere utile al lettore.